Ecco, a noi per vedere è bastato toglierci una penna, ma non sempre così semplice. Nei paesi più poveri del mondo ci sono ancora tanti bambini che ora sono ciechi, ma grazie ai medici CBM possono tornare a vedere. Non fate scelte alla cieca, donate il vostro 5 per 1000 a CBM. Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli CBM Italia Onlus, restituirai la vista a tanti bambini ciechi. A te che paghi le tasse non costa nulla.